Vai, 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 va, 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 va Tutti i nodi vengono al pettine No, grazie, sono fotogenica, me la fa lo stesso È un video? Non sei fotogenica E vabbè, hai fatto il video, che cazzo hai voluto dimostrare quella? Che voglio brindare alla tua salute Alla tua, sempre Malefica Ma noi dobbiamo anche il video dei fuochi, stavamo mostrando sempre Il mio bambino non è abituato ai fuochi Non lo capisco, devo chiamare il padre No, 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 ho fatto il suo numero D'Antispervatozzo Belli questi Questo qua mi piace a me di più Beh, hai fatto il video e che cosa mi rappresenta D'Antispervatozzo